La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri e questa decisione è stata presa dopo il comportamento che Allegri ha tenuto nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La Juventus è riuscita a vincere contro l'Atalanta portandosi a casa questo trofeo e qui abbiamo anche assistito a un comportamento di Allegri che ha fatto veramente molto molto discutere. Sappiamo che da tempo Tiago Motta e la Juventus hanno raggiunto un accordo e qui insomma molto probabilmente vedremo la prossima stagione proprio Tiago Motta sedere sulla penchina della Juventus. Scrivi nei commenti che cosa ne pensi di quello che è successo se secondo te la Juventus ha fatto bene a desonerare Allegri dopo quello che ha fatto nella finale di Coppa Italia. Scrivi tutte le tue opinioni, le tue considerazioni e anche che cosa ne pensi del probabile arrivo di Tiago Motta. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita e noi ci vediamo al più presto con un nuovo video. Ciao! Grazie!